Ciao a tutti! Oggi vi propongo una tartare di tonno al passion fruit. Per questa ricetta occorrono tonno, edamame, passion fruit, alga nori, valeriana, capperi. Cominciamo! Taglio il tonno a cubetti. Lo condisco con olio, sale e pepe. Prendo i capperi e li trito leggermente. Le aggiungo al tonno. Condisco gli edamame con olio, sale e pepe. L'alga nori invece la frizzerò. La taglio di diverse dimensioni per dare volume. Sarà l'elemento croccante del piatto. passion fruit. Impiattiamo. Il piatto è pronto e buon appetito! Grazie a tutti!